Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro di oggi 12 settembre. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali della giornata. Ovviamente dopo la bomba sganciata ieri da Repubblica, oggi tutti i giornali entrano da una parte o dall'altra sull'inchiesta sulla Lega. In realtà l'inchiesta non è sulla Lega, è su tre commercialisti, molto vicini alla Lega, obiettivamente, perché hanno degli incarichi della Lega. La cosa più divertente è chi cerca anche di renderla in secondo piano, come il Corriere della Sera, non fosse altro per motivi editoriali, perché questa cosa la tira fuori Repubblica, in prima pagina riesce a scrivere fondi per campagna elettorale. Cioè lì in realtà si sta creando nei confronti di questa inchiesta, sia a destra, sia a sinistra, sia in alto, sia in basso, sono sempre così le inchieste, fondi per la campagna elettorale di Salvini. Tant'è che Salvini e la cena con i quattro Trojan, intende il fatto. Devo dire, il titolo ovviamente è un facile allusione a quella specie di chip che mettono all'interno di spia, che mettono all'interno dei cellulari, che avevano questi commercialisti che avrebbero visto anche Salvini. Spiano la Lega, assalto giudiziario, di tutt'altro avviso ovviamente i giornali di destra, ma la cosa stupenda è il titolo, come sempre, di Repubblica, che è la prima che deve sempre andare un passo avanti. Nell'inchiesta spunta il nome di Salvini. Poi vai a leggere bene le carte, le carte stesse che sono dell'accusa, se è chiaro, perché qui non c'è ancora nessuna carta della difesa, anzi questi commercialisti volevano andare dai jeep, dai magistrati, a spiegare la loro posizione e in realtà li arrestano prima, e agli arresti domiciliari. Insomma è una strada stupenda, perché è quella mano dura della legge nei confronti del sospetto, che per ora è soltanto quello. Ma comunque sia, voglio dire, questa vicenda è una di quelle vicende di oposità, di rapporti, di film commission, di interessi pubblici, di cricche che in ogni paese purtroppo la politica ha. Ma il punto fondamentale è che poi dopo leggi nelle righe tutto questo coinvolgimento della campagna elettorale, fondi per la campagna elettorale di Salvini, che i magistrati avrebbero fatto tutti i tracciamenti di questi, stiamo parlando di 800 mila euro. 800 mila euro che 400 è per comprare un capannone, che poi è stato rivenduto a 800, ristrutturato. Quindi nella migliore dell'ipotesi è una stecca di 400, nella peggiore dell'ipotesi è di poche centinaia di migliaia di euro, perché poi hanno fatto la ristrutturazione. Ma non voglio neanche entrare nel merito di questa roba, i processi poi stabiliranno se qualcuno ci ha fatto un business su questa vicenda. Ma la cosa fondamentale è che i magistrati cosa hanno fatto? Come prima cosa hanno visto se questi flusso, il denaro, ridicolo, beh, in fosso fosse arrivato alla Lega, fosse passato per la Lega. Niente! Non hanno trovato un euro che è arrivato alla Lega. Ma comunque sia, il concetto è nell'inchiesta spunta il nome di Salvini. Certo, spunta il nome di Salvini. Potrebbe anche spuntare il nome di Porro, cioè del sottoscritto della zuppa di Porro. Se uno di questi magari ha detto una cagata, ho visto ieri la zuppa di Porro. Diventa un fan di Porro, uno di quelli arrestati. Piero Colaprico, la Lega è circondata! Il titolo del pezzo di Colaprico. Vabbè, insomma, avete capito di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una vicenda che peserà nella campagna elettorale. C'è il processo a Salvini, i persequestri di persona, c'è i 49 milioni di euro di Salvini, c'è il... Insomma, è quella roba lì. E come sempre in Italia, quando si arrivi vicino alle elezioni, o comunque se è sempre in elezioni, l'idea che i giornali danno di questa specie di torbido mondo della politica è molto congeniale. È l'idea che adesso arriveranno gli italiani e voteranno finalmente la riduzione dei parlamentari. Una minchiata colossale, se viene intesa, per ridurre la banda dei disonesti. Anche perché il taglio dei parlamentari non taglia i disonesti, taglia in maniera banale tutto il club dei parlamentari. Quindi potete essere più o meno contenti che saranno meno parlamentari. Ma sapete che non risparmiate una lira, sostanzialmente. Che non vi togliete, non vi risparmiate i fessi, non vi risparmiate i ladri e non vi risparmiate neanche i pesi delle segreterie perché pesano oggi come domani. Ma comunque sia, sul referendum Giorgetti vota no. Secondo me, per questi argomenti che sto dicendo, questo mi sembra piuttosto clamoroso. Che l'uomo molto forte della Lega è in totale contrasto con quello che ha detto Salvini. E peraltro è piuttosto singolare che un uomo così importante della Lega effettivamente manifesti a poco prima del referendum il motivo di votare no. Mi sembra che nella Lega soltanto Claudio Borghi voti no, il Presidente è ex Presidente della Commissione Finanze della Camera e lo manifesti in maniera clamorosa. Sul fatto, se la prendono con Giorgetti, perché avrebbe votato due volte sì al taglio dei parlamentari nel 2018, devo dire che il fatto che inizia a parlare di coerenza di Giorgetti è lo stesso fatto che, voglio dire, ci spiega un giorno sì, un giorno no, che Conte è un mostro della nuova democrazia, l'uomo più incoerente del mondo, se non altro ha fatto l'accordo prima con Salvini e poi con Zingaretti. Toc, toc, adesso lezioni di coerenza, il fatto non ce ne dovrebbe dare, soprattutto se il suo leader ideale si chiama Beppe Conte, detto, come è che, Winston, non lo chiamiamo più Winston. Winston, tra l'altro, fatemi aprire una parentesi e poi la chiudo, perché ritorno sul referendum, voleva fare un messaggio alla nazione da mandare a Domenica Inn. Io, non ci crederete, non ci trovo nulla di scandaloso. Non so il giornale Libero, giornali che io leggo con attenzione, la verità, cos'è? Conte voleva farsi il comizio e il rai. In realtà io, il Presidente del Consiglio, che il giorno prima che ripartono le scuole, dopo essersi chiuse per sette mesi, dica ai ragazzi andate a scuola, ragazzi andate a scuola è importante, apprezzerete in maniera, secondo me, neutra. Chi se ne frega che ho una settimana delle elezioni? Cioè, secondo me, noi sbagliamo un po' i conti sulle cose gravi e non gravi delle cose. Poi ne parleremo di una cosa grave. Conte voleva andare Domenica Inn, il giorno prima delle elezioni, ragazzi, oh, ma che sarà mai? A parte il fatto che stiamo parlando di televisione, mica stiamo a parlare di una specie di robot che entra nella cabina elettorale e ci fa votare quello che vuole. Insomma, non lo so. Però diciamo che Conte, se vuol venire lunedì a parlare di scuola e di ripresa di scuola, magari non con un comizio, non con una cosa. A Quarta Repubblica lo accolgo volentieri. Non ci trovo nulla di scandaloso nel fatto che lui volesse fare un messaggio alla nazione. Detto questo, sul referendum, come si chiama? e Travaglio si cucina perché tutti quanti votano no e Travaglio non li sopporta. Giorgio Gori, dice, quello che voleva far ripartire l'Italia, in realtà non conosce la Costituzione. Sandro Veronesi, uno che è del salottino loro, della Gruber. Saviano, un altro del loro salottino. Sartori, quel cazzone che dovrebbe essere il leader delle sardine che non si capisce adesso chi rappresenta. Dice, voto no. Cioè, quello sta prendendosi veramente sul serio. Io vi ricordo sempre, quando pensate a Santori dovete immaginare nella vostra idea questo ragazzo, senza arte né parte, che si fa fare una foto pensante con dietro l'arcobaleno che vede il cielo. Ecco, quando voi pensate quella roba lì poi dite, Conte ha fin troppo poco perso la testa se questo qui, che non ha combinato assolutamente nulla della vita, nulla, se non scegliere il cerchietto migliore per le sue foto, si fa fotografare con l'arcobaleno. E noi ancora pensiamo che Conte sia un malvissuto rispetto a questi che non hanno nessun ruolo, nessuna capacità, diciamo, amministrativa, insomma, Conte ha perso meno. Oh, ragazzi, non è che sto diventando contiano, state attenti. Sto semplicemente dicendo come la gente prende la testa. Ma nel senso di quello che scrive Travaglio, io godo come un riccio, perché vedere Travaglio che attacca la sinistra, cioè gli amichetti della sua parrucchietta, i Saviano, i Veronesi, le Sardine, se vederli come li attacca, mi fa godere perché questi qua veramente si attaccano l'uno con l'altro come se fossero dei piranhas. Se sta cosa la fa Bettini, che è considerato il metra pensè del Partito Democratico, andiamo bene, insomma, ma ciò oggi sulla giornale ci spiega che nasce l'asse Grillo-Bettini. Cioè, Beppe Grillo, l'uomo che mena i giornalisti e quello che ha ammazzato tre amici suoi con un SUV e poi si è dato, vigliacchetto, vigliacchetto, beh, insomma, il vigliacchetto Grillo oggi farebbe l'accordo, niente po' di meno con Bettini, che evidentemente in Italia, perché non può andare in Thailandia, visto che è chiusa, e Zingaretti sarebbe isolato. E Bettini oggi fa un'intervista pensosa al Corriere della Sera, spiegando la rava e la fava, cose noiosissime, potete evitare di perdere. L'unica cosa che dovete leggere è che ieri, all'importantissima manifestazione fatta dall'ex sindacalista della CGL, Minenna, che per motivi Grillini diventa capo delle Dogane e contributor del Sole 24 Ore, beh, questo Minenna in realtà in prima fila vede Bettini e Grillo accanto l'uno accanto all'altro. Quindi questi qui, invece di andare in discoteca che non si può più, vanno uno accanto all'altro alla relazione dell'Agenzia delle Dogane, immagino l'interesse di Grillo e di Bettini alla relazione sull'Agenzia delle Dogane. Ovviamente non gliene fotteva nulla, l'unica cosa che gli interessava era a Grillo di blindare il Premier, secondo quello che dice il Messaggero e stoppare l'operazione di Casaleggio e Di Maio che vorrebbero invece il Premier sottotono. Beh, è molto divertente un pezzo di Alessandro Giuri che vi consiglio oggi perché là c'è l'altra vicenda favolosa che purtroppo riguarda gli intellettuali, i metra pensè di questa sinistra di Zingaretti e Giuri dice non c'è più Saviano tra i metra pensè, pensa che metra pensè poi era perché poi noi ci abituiamo è come una sorta di nostalgie della Bù cioè il fango per noi diventa una cosa straordinaria quindi Saviano è la grande metra pensè e ora invece passano da Saviano alla Ferragni dice Giuri molto divertito l'evoluzione degli intellettuali degli intello del Partito Democratico se lo volete leggere lo leggete su Libero mi sembra la verità scusatemi di barazzo e poi riparte la scuola quello non fa il discorso alla nazione ma riparte la scuola e c'è un gran casino sui certificati perché le regioni vorrebbero il certificato se manchi per più di tre giorni da scuola certificato medico Ricolfi oggi sul messaggero ci dice che la verità che ci ripropongono che hanno combinato un casino sulla scuola avevano tutto il tempo possibile immaginabile e la verità non è quella di Conte che riparte la scuola e che cercheremo di farla ripartire il meno possibile e poi c'è la polemica del presidente della regione Cirio del Forza Italia che dice alla stampa no alla stampa fa un'ordinanza contro l'azzolini dice le famiglie devono prendere non sono le famiglie a misurarsi la temperatura ma devono essere le scuole a fare il termoscanner io la trovo una sonora minchiata come quella di Crisanti che diceva ieri che le famiglie non possono fare una cosa così seria come misurare la temperatura e mi stupisco toc toc Cirio siamo tutti diciamo liberali di centrodestra ma ti rendi conto che il principio che tu stai affermando è che le famiglie e gli individui non possono assumersi la responsabilità di misurare la febbre e tu chiedi l'autocertificazione tu che sei un liberale chiedi alle scuole di fare quello che non vuoi attribuire alle famiglie qual è la differenza tra un liberale e un socialista che il liberale crede nell'individuo il socialista nello Stato Cirio da che parte stai? no te lo chiedo francamente lunedì spero di averti in trasmissione ed è una domanda su cui con grande serenità io proverò a farti delle domande ma io dico ma qual è la differenza tra un liberale e un socialista perché uno vota a destra e non a sinistra perché uno che vota a destra crede nella responsabilità degli individui uno che vota a sinistra crede nella responsabilità delle istituzioni tra cui la scuola preferisce un bidello o un papà nella serietà della misurazione della febbre io non ho dubbi non ho dubbi Cirio evidentemente ce l'ha l'obiezione che fa è molto sensata Cirio dice ma insomma ma se le aziende devono mettere termoscannere quindi sono le aziende a essere responsabili della salute dei propri dipendenti non si capisce perché non debbano essere le scuole aziende di stato a seguire la sanità insomma avete capito come la penso se qualche azienda si vuole mettere il termoscanner lo faccia pure se ci vuole essere un come possiamo dire un supplemento di attenzione si faccia pure ma è il principio liberale ma questa cosa non gliela possiamo spiegare a quelli che si reputano liberali ma evidentemente quella grande famiglia socialdemocristiana che sta a destra ma per caso ma va bene va bene così chi se ne frega nel frattempo il lavoro è un disastro e ne parla di Vico oggi sul Corriere della Sera i lavori a termini autonomi sono un disastro ma la cosa più bella è questo decreto semplificazioni perché il decreto semplificazioni e qui la destra dovrebbe fare un casino pazzesco cosa è successo? Mattarella che cosa ha detto? un po' come il decreto immigrazione ha detto che non va bene e sapete che non va bene perché in questo decreto semplificazioni hanno messo la fiducia a una riforma che vi sembrerà banale ma è quella del codice della strada in cui sono mille casini schivano i giornali i bicicletti contro mano i monopattini cioè tu reputi di cambiare il codice della strada senza una discussione parlamentare ma voi dite ma chi se ne frega il Parlamento non conta nulla esattamente però c'è una volta che il Presidente della Repubblica ha mandato una lettera dicendo così non va bene io mi chiedo toc toc Mattarella ma una volta un segnale lo possiamo dare? magari rinviare una legge alla Camera spiegando come hai spiegato tante volte che quel decreto semplificazione contiene troppe norme eterogenee spiegando che le fiducia non si possono fare su riforme che non sono state discusse una volta un segnale che le Camere contano un Presidente della Repubblica lo potrebbe pur dare o no? evidentemente no perché qui è tutto troppo delicato per dare segnale alla Camera vi ho parlato anche della scuola e poi ragazzi qua è finita non so se avete notato la questione del virus insomma tutto quell'allarmismo sul virus e oggi di allarme ce n'è quattro volte superiore a quando facevano le prime pagine sulla Sardegna sapete perché? perché oggi sono 160 terapie intensive che è l'unico dato negativo cioè l'unico dato negativo sulla comparsa di questa malattia e se la gente va in terapia intensiva non se si ammala se c'è 37 e mezzo 38 di febbre se sono asintomatici di cui non ce ne fotte nulla ma se ci sono terapie intensive beh insomma occorrerebbe preoccuparsi ma ora inizia la scuola la scuola bisogna calmare le acque non fare allarmismo e vedrete vedrete ve lo dico oggi che giorno è oggi il 12 settembre adesso proveranno a smorzare quei toni che già oggi dovrebbero essere se fossero coerenti con quello che hanno detto ieri e accesi ma non lo sono io sono ben contento perché figuratevi da aperturista quale sono sono ben contento che vengano relegate come tutti i giornali internazionali di notizie sul virus a pagina 4 e non prendano i primi pagine dei giornali direi che per oggi è tutto vi do appuntamento domani sempre con la zuppa di porro ciao